Prima una serie di fotografie, poi anche l'interrogazione a firma del gruppo consigliare del PD a Palazzo Ropa per chiedere conto al sindaco Corradino e al vice Moscarola del mancato spazzamento della neve che poi si è trasformata in ghiaccio, da marciapiedi alle scale ai parcheggi della città, creando non pochi disagi. E questa è una situazione che è stata segnalata da diversi cittadini. Il parcheggio della funicolare è uno dei più utilizzati per chi apida e si reca in centrobiella e la presenza di ghiaccio su marciapiedi e accessi ai luoghi pubblici costituisce un reale pericolo per auto e per pedoni. L'attuale vice sindaco Giacomo Moscarola, quando era all'opposizione, era molto sensibile al tema dello sgombero neve e ghiaccio. Si legge nell'interrogazione. E allora ecco perché il gruppo del PD chiede al sindaco e al vice sindaco perché non si è proceduto a pulire dal ghiaccio oltre alle strade principali anche i marciapiedi, le piste ciclabili e i parcheggi. E ancora un'altra interrogazione riguarda come ha modificato il vice sindaco l'organizzazione dello sgombero neve negli ultimi due anni e mezzo da quando è entrato a far parte della giunta comunale.